Shalom, io sono Nazarena Condemi, pastore della comunità messianica Bnei Efraim e parlerò della sposa che si sta preparando in occasione della festa di Shavuot. In Apocalisse, al capitolo 7, dal versetto 9, leggiamo quanto segue. In Apocalisse, al capitolo 7, versetto 9, leggiamo questo. After this I looked and there before me was a huge crowd, too large for anyone to count, from every nation, tribe, people and language. They were standing in front of the throne and in front of the lamp, dressed in white robes and holding palm branches in their hands. Dopo queste cose io vidi ed ecco una grande folla che nessuno poteva contare di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, questi stavano in piedi davanti al trono e all'agnello, coperti di vesti bianche e avevano nelle proprie mani e gridavano a gran voce dicendo la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Abbiamo qui una visione immensa di un popolo che proviene da tutte le tribù della terra, da tutte le nazioni, da tutte le lingue e sono davanti al trono dell'agnello. Una folla immensa che è davanti al trono e davanti all'agnello per glorificare l'iddio della nostra salvezza e per celebrare l'agnello che è stato immolato e che ha versato il suo sangue per noi. Questa visione ci dà un'immagine profetica di qualcosa che sta accadendo nel tempo che viene indicato in Apocalisse davanti al trono dell'agnello. E' una visione profetica. Al compimento dei tempi noi avremo questo scenario inimmaginabile. Una folla sterminata da tutto il mondo, da tutte le nazioni, tribù e lingue saranno davanti al trono e davanti all'agnello per glorificarli. Vediamo profeticamente in quest'immagine la sposa dell'agnello. E' un'immagine veramente composita della sposa, in cui tutte le diverse nazioni e popoli e lingue e tribù stanno rappresentare la bellezza multiforme di questa sposa, dei redenti dell'Eterno. Ci testimonia la straordinaria ricchezza della diversità. Ma questa diversità e questa multiforme bellezza non rappresentano altro che la manifestazione della grazia di Dio. E' la caratteristica immediata che noi vediamo di questa sposa in questa immagine. La diversità della provenienza che testimonia l'universalità della salvezza. E' la ricchezza di tutte le sfumature che queste persone rappresentano provenendo da ogni luogo della terra. hanno un solo fondamento e un solo destino. e hanno una fondazione e una destino. E' la loro famiglia in Revelation. E' la loro famiglia di sangere una nuova. E' 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 una nuova. In questa porzione della scrittura noi vediamo meglio definito l'aspetto che riguarda questa folla che si trova davanti all'agnello e che celebra il Signore specificatamente dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprire sigilli perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprato da ogni tribù, lingua, nazione e popolo. E quindi qui abbiamo, è meglio descritto in dettaglio chi è questa grande famiglia e vediamo che la famiglia stia chiamando e dicendo, sì, tu sei vero, vero di aprire i segni perché tu abbiamo comprato noi con il tuo sangue. Il sangue dell'agnello, in altre parole, è quello che lega e unisce questi popoli da tutte le parti della terra. Noi abbiamo qui la conferma più grandiosa di quell'espressione che Giovanni il Battista ebbe a dire quando incontrò Gesù nel suo battesimo e disse Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Nella loro diversità, tutti i popoli rappresentati davanti al trono e davanti all'agnello hanno un unico legame e un unico fondamento, il sangue dell'agnello. Ma sempre al capitolo 5 di Apocalisse, al versetto 10, noi troviamo nell'espressione conclusiva del versetto qualcosa che riguarda ancora la definizione di quello che è il destino, il carattere, l'identità di questa sterminata e immensa folla che sta davanti al trono dell'agnello. E ci hai fatto re e sacerdoti per il nostro Dio. E regneremo sulla terra. Allora abbiamo visto, non abbiamo solo il fondamento nel sangue dell'agnello qui descritto, ma abbiamo anche descritto che noi siamo re e sacerdoti. Questa folla che è la sposa di Cristo, la comunità di Cristo è anche costituita da persone che hanno il ruolo di re, di sacerdoti e che regneranno sulla terra. Qui c'è proprio l'identità, il cammino, la destinazione. E so we read in the end of verse 9, And you have made us kings and priests by our God, and we shall reign on earth. And this is very important because this shows us our identity, the identity of this crowd, of the ones that have been redeemed by the Lord. Questa visione ci parla di un compimento futuro, ci prepara a un destino a cui andremo incontro tutti quanti insieme, ma ci dà anche un indizio sul tempo presente, ci qualifica anche a considerare quello che è il nostro compito oggi su questa terra al presente per contribuire a realizzare il compimento che noi vediamo in queste immagini, in questa figura. La sposa che nasce dal sangue del riscatto e della redenzione, la sposa che nasce dalla liberazione e dalla schiavitù ha una direzione, è in cammino verso il regno di Dio. So the bride that was born through the redemption, through the work of God, what he did to redeem his bride, now is going toward the liberation. Questa sposa è in movimento, in cammino verso la restaurazione di tutte le cose che si compierà sulla terra quando il re Messia Yeshua ritornerà. So this bride is going toward the restoration of all things that will happen when Jesus, the bridegroom, will come back and come to this earth. Gesù è per noi uno sposo di sangue e questa figura noi la ritroviamo in Esodo, in un episodio molto particolare che vede coinvolto Mosè e sua moglie Sephora. And Jesus is for us a bridegroom of blood and we see this in a particular event in Exodus that where there is Moses and his wife Sephora. Vediamo Mosè in cammino per compiere la missione che Dio gli aveva affidato ma Dio gli si fa incontro sulla strada opponendosi a lui quasi per ucciderlo e la moglie Sephora con una selce tagliente recide il prepuzio del figlio gettando le piedi di Mosè e dicendo tu sei per me uno sposo di sangue. So in this episode, in this passage, we know that Moses was on the way to fulfill the mission that God gave him but God and the Lord went there to meet Moses and almost tried to kill him but Sephora took a sharp flint, cut off her son's foreskin and threw it at Moses' feet saying you are a bridegroom of blood to me. Nessuno di noi deve dimenticare al presente su questa terra e per il cammino e per questa visione che noi vediamo come la destinazione finale nessuno deve dimenticare che noi siamo fondati sul sangue dell'agnello. Gesù è per noi uno sposo di sangue e questo il legame che unisce e deve unire tutti i redenti del Signore che fanno parte della sposa. So everyone of us has to remember at the present time but also for the future that we are headed to that we are founded on the blood of the Lamb and yes that we have been bought at a high price and the price was this was the blood of the Lamb. Al presente la sposa è affaccendata. La chiesa deve essere in movimento, impegnata. In preparazione di quelle nozze che sta preparando l'agnello. Tutti noi sappiamo che le nozze sono di solito precedute da un finanziamento. Il tempo di finanziamento può essere più o meno lungo. E nel nostro caso come la sposa dell'agnello non sappiamo quanto durerà questa attesa. Ma tuttavia la sposa che si prepara è impegnata, è occupata nei preparativi. Quali preparativi? è un tempo di salvezza. Un tempo di radunamento dei credenti. Un tempo di arricchimento attraverso le opere, le mitzvot. Ma dobbiamo ricordare come sposa dell'agnello che è un compito fondamentale alla sposa, cercare la voce dello sposo. La shulamita chiede di ascoltare la voce dello sposo. Ed è quello che dobbiamo fare nel mezzo dei nostri preparativi, continuare ad ascoltare la voce dello sposo. Ecco la voce del mio diletto, dice la shulamita, pensando al suo sposo. E così dobbiamo fare noi. Continuare ad ascoltare la voce dello sposo attraverso lo Spirito Santo e attraverso la parola di Dio. Ora, come avviene in tutti i fidanzamenti, all'inizio i preparativi sono lenti. Nel primo periodo del fidanzamento non ci sono molte cose da fare in vista del matrimonio. Ma ad un certo momento, quando la data si avvicina, tutti i preparativi subiscono un'accelerazione. All'inizio il tempo sembra passare lentamente e lo sposo sembra tardare. All'improvviso tutto va di fretta. Dopo la nascita dello Stato di Israele e dopo il ritorno di Gerusalemme nelle mani degli ebrei, il tempo ha subito un'accelerazione. Gli avvenimenti incalzano e la sposa deve affrettarsi nei preparativi. Lo sposo sta arrivando. Come si sta preparando la sposa? Come deve prepararsi la sposa? Vogliamo vederlo nella prossima slide? The next slide, please. And so how is the bride preparing herself? And we want to see it in the next slide. So we read in Ephesians, wives should submit to their husbands as they do to the Lord, because the husband is head of the wife, just as the Messiah, as head of the messianic community, is himself the one who keeps the body safe. Just as the messianic community submits to the Messiah, so also wives should submit to their husbands in everything. As for husbands, love your wives, just as the Messiah loved the messianic community, indeed gave himself up on its behalf, in order to set it apart for God, making it clean through immersion in the mikveh, so to speak, in order to present the messianic community to himself as a bride to be proud of, without a spot, wrinkle, or any such thing, but holy and without the fact. In questo brano noi abbiamo non tanto e non solo ciò che la sposa deve fare, ma qual è l'atteggiamento che deve avere. Sono importanti le cose che la sposa deve fare, gli impegni, le mitzvot, il radunamento, la predicazione della salvezza, sono tutte cose importanti. Ma è essenziale comprendere che l'atteggiamento della sposa è altrettanto importante. La Chiesa sul modello della singola moglie citata in Efesini deve essere sottomessa a Cristo in ogni cosa. E questo atteggiamento di accettazione dell'autorità di Cristo in ogni cosa è la ragione dell'obbedienza e il compimento delle parole del Cantico dei Cantici. Fammi udire la tua voce. L'obbedienza della sposa permette a Gesù, lo sposo, di santificarla, di purificarla con l'acqua della parola. Il riconoscimento e l'obbedienza all'autorità di Gesù permettono che la sposa possa essere santificata e possa comparire davanti allo sposo gloriosa, senza macchia, senza ruga. Dunque la sposa, fondata sul sangue di Gesù, è diretta lungo una via che la condurrà alle nozze e a regnare sulla terra con lo sposo. In preparazione di Shavuot abbiamo avuto un tempo speciale nel conteggio dell'Omer. E questo tempo speciale ha scandito un percorso che è andato dalla liberazione della schiavitù, dalla redenzione, alla rivelazione sul Monte Sinai. Dall'oppressione e dalla schiavitù c'è stato un percorso in salita per costruire la propria libertà come individui e alla formazione di un'identità individuale e collettiva. Abbiamo avuto un percorso, un cammino per giungere alla consapevolezza di un destino comune e il culmine di questo percorso è Shavuot. E l'accettazione della Torah sul Monte Sinai nel tempo della nostra libertà ci permette di realizzare quella comunità del popolo che Dio si è scelto per particolare proprietà. Siamo giunti al culmine di un cammino glorioso, di un cammino in salita, di un cammino di elevazione profetico per giungere sino a Gerusalemme, luogo di celebrazione speciale delle feste di pellegrinaggio. Tutto si compie a Gerusalemme e tutto si compirà nella Santa Città. La sposa dunque si sta preparando La sposa si prepara ascoltando la voce dello sposo e solo in questo modo potrà riflettere la bellezza del Messia. La vera sposa che Gesù sta preparando, purificando, rigenerando e raccogliendo da ogni popolo, lingua, nazione e tribù. Si sta preparando a manifestare l'universalità della chiamata salvezza del Padre Creatore. E alla fine questa sposa rifletterà la luce dello sposo. In definitiva la bellezza della sposa è tutta nella bellezza dello sposo il Messia. E così come la vera sposa intrepidante e attiva attesa dello sposo. Possono dire insieme, lo spirito e la sposa, vieni presto, Maranatha. The bride and the spirit and together say, come soon, Maranatha. Amen. Grazie. Ciao. Ciao.